Musica Ben trovati alla prima edizione del TG6, apriamo con la cronaca, sarà l'esame della scatola nera a stabilire le cause dello schianto dell'elicottero del 118 ieri mattina a Campo Felice, Daniela Rosone. Solo l'esame della scatola nera chiarirà il motivo dell'incidente che ha visto ieri precipitare l'elicottero del 118 in località Campo Felice, ma probabilmente sono state le proibitive condizioni meteo a provocare l'accaduto. E così l'Aquila piange sei vittime, due delle quali reduci dal gelo della tragedia di Rigopiano. Volavano per recuperare uno sciatore con una gamba rotta sulle piste d'asci di Campo Felice, erano riusciti a trasportarlo in elicottero e si dirigevano verso il San Salvatore dell'Aquila per le cure all'osciatore romano, anche gli vittima dello schianto. Scarsa visibilità, potrebbe essere questo il motivo. Fatto sta che già è stata aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica, coordinata dal sostituto procuratore Simonetta Ceccarelli. Il velivolo si è schiantato su un monte Cefalone, a circa 2000 metri di quota, nel territorio del comune di Lucoli. Il boato è stato fortissimo, tant'è che sul posto sono accorsi molti abitanti e anche persone direttamente dagli impianti sciistici. Il velivolo era un AV-139, era partito dall'Aquila e avrebbe lanciato anche il segnale di crash mentre era nei pressi di Casamaina. La macchina dei soccorsi è scattata subito, ma è stata resa ancora più complicata a causa delle pessime condizioni climatiche. Per raggiungere il punto esatto dell'incidente, alcuni soccorritori si sono arrampicati a piedi. La zona infatti è molto impervia e da lì di nuovo a piedi, per recuperare le salme e riportarle giù, sempre sulle barelle. La zona è sotto sequestro e nella notte appena trascorsa anche la strada statale circostante è stata presidiata. Al San Salvatore poi, il dolore degli amici, dei colleghi, dei familiari. Un destino tragico che si incrocia a quello della tragedia di Rigopiano. Davide De Carolis, per esempio, del soccorso alpino, era stato uno dei primi ad arrivare a Farindola e ad estrarre dalle macerie e dalla neve dei sopravvissuti. Così come si incrocia a questa tragedia quella del dottor Walter Bucci, medico amato e stimato da tutti all'Aquila, che a Rigopiano era a corso per prestare servizio. Accanto a loro c'erano Peppe il gigante Buono, Giuseppe Serpetti, infermiera Aquilano, Mario Matrella di Foggia, tecnico di volo ed esperto del verricello, Gianmarco Zavoli, il pilota di Rimini e Ettore Palanca, l'osciatore di Roma, che si era fatto male procurandosi la frattura di Tibi e Perone. Tantissimi messaggi di cordoglio giunti da ogni parte d'Italia, da associazioni, da colleghi, dal volontariato, dal presidente della Repubblica Mattarella e da tutte le principali cariche dello Stato. Il sindaco Cialente ha già annunciato che nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino all'Aquila. Un momento duro per la città, scossa dalla terra e da questa tragedia immane, che ha colpito persone che erano conosciute da tutti e che per tutti prestavano la loro opera con professionalità, ma anche con profonda umanità. Sarà difficile reagire in una terra che sta pagando un prezzo troppo alto, ma loro erano lì perché dovevano e perché amavano il loro lavoro. Stanchi magari dopo aver scavato o soccorso, ma sempre al servizio degli altri. Oggi non potranno baciare più mogli e bambini, che non li vedranno tornare a casa. Un sacrificio alto, troppo alto forse, nobile. Per l'Aquila non è il giorno dei se, dei ma e dei perché, ma è il giorno del dolore, troppo profondo da rimarginare in questo momento. Torniamo sulla tragedia a Rigopiano. Al momento il bilancio delle vittime è salito purtroppo a 24 e quindi di conseguenza si è abbassato il numero dei dispersi, che al momento è di 5. Di queste 24 vittime, 13 sono uomini, 11 sono donne e restano da identificare ancora 12 vittime. Lavoreremo ininterrottamente fino a che non avremo recuperato tutti e, quanto ha detto il direttore dell'ufficio emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, Titti Possiglione, parlando dalla Dicoma di Rieti. In campo, ha aggiunto, ci sono più di 200 uomini che stanno lavorando. E tutta Loreto si è stretta questa mattina alle famiglie di Carlo e a Conciamessa per l'ultimo saluto a Sebastiano e Nadia, vittime della tragedia di Rigopiano. Al termine delle sequie il presidente del Consiglio regionale di Pangrazio ha chiesto al governo non solo risorse, ma anche un piano straordinario di intervento. Paolo Renzetti. Almeno 3.000 persone hanno partecipato questa mattina al palatenda di Loreto a Prutino alle sequie di Sebastiano Di Carlo e Nadia a Conciamessa, morti nel disastro dell'hotel Rigopiano. Oltre a tantissimi cittadini presenti le autorità regionali, fra queste anche il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. C'è bisogno di tanta prevenzione, c'è bisogno di normative certe che diano regole tali che facciano vivere i nostri cittadini in sicurezza. Ovunque essi si trovano, la regione si stringe intorno al dolore di questa giovane coppia, dei loro figlioli, di tutti i familiari della comunità di Loreto, ma soprattutto alla comunità abruzzese che sta vivendo momenti, giorni, oramai settimane. Presidente, questi sono giorni di dolore, però prossimamente bisognerà cercare di capire, e c'è un'inchiesta aperta dalla magistratura, se tutto questo si poteva evitare e se tutto ha funzionato a dovere. Certo una cosa va detta, non è più possibile accettare alcuni comportamenti, non è più possibile non avere una normativa che facci in modo tale che la nostra regione ridivendi una regione sicura, accogliente e soprattutto che i cittadini possano vivere con serenità e fare un proprio futuro, vivere un proprio futuro in questa nostra bellissima regione. Non è mancato poi il ricordo della coppia da parte di un amico di famiglia, Piero, che ha mandato un pensiero anche al piccolo Edoardo, rimasto senza i suoi genitori. Sebastiano e Nadia erano una famiglia perfetta, una famiglia granitica, sposati da sempre, li portai io in macchina al loro matrimonio. L'ultima cena insieme, il 19 dicembre, il giorno del suo compleanno, a casa loro c'erano anche Piero e Barbara, purtroppo, di cui ci toccherà celebrare i funerali prossimi giorni. È una persona di una disponibilità e di un'allegria unica. Nadia, una grande professionista, lavorava in ospedale a Penna, al reparto analisi, è una persona disponibile, gioiosa, mai un'incazzatura, mai una cosa fuori luogo. Poi c'è questo dramma di questo bambino di otto anni rimasto senza genitore. Edoardo, credo che, per quello che ho potuto vedere ieri, se ero venuto qui a fare un piomaggio alla mamma e al papà, è un ragazzino di una forza ragazzo. William ha depositato una rosa sulle bare con il nonno, ha spiegato che purtroppo questa tragedia gli ha portato via la mamma e il papà. Lui ha calizzato le bare, è stato un momento molto toccante, però devo dire una forza quel ragazzo fuori dal comune. Cioè, dieci anni, la consapevolezza che dovrà farcela insieme ai fratelli e con un mare di amici e parenti, se permette, anche di noi. Dolore, ma anche la volontà di affidarsi alla volontà divina. Queste le parole di Don Andrea Di Michele, che ha ufficiato la cerimonia funebre. Penso che due aspetti sono sempre da sottolineare in questo momento. La vicinanza, il silenzio, il rispetto, l'attenzione alla persona che soffre e poi la preghiera. Il fatto di credere in Cristo risorto e l'annuncio della fede. I funerali di Marco Vagnarelli, 44 anni, una delle vittime dell'hotel Rigopiano, si dovrebbero svolgere sabato 28 gennaio alle 10.30 nella chiesa di Sant'Egidio a Castignano, a Scolipiceno, suo paese di origine. Lo ha detto a Lanza Fulvio Vagnarelli, il fratello di Marco, troppo provato in questo momento per rilasciare altre dichiarazioni. Al momento non si sa ancora nulla, invece, sul funerale della sua compagna Paola Tomassini, di 46 anni, che anche lei figura nell'elenco delle vittime identificate, originaria di Montaldo Marche, a Scolipiceno, ma residente a Pedaso, provincia di Fermo. E la Consal denuncia vigili del fuoco intervenuti a Rigopiano in condizioni non idonee. Sono mancati equipaggiamenti adeguati e gli uomini hanno lavorato in condizioni precarie, più difficoltose e rischiose per la loro incolumità. Francesca Romana Testi Equipaggiamenti non idonei per l'intervento, questa è la notizia che dirama il sindacato dei vigili del fuoco. Una questione che trova evidenza nelle immagini dei soccorsi. Poco agevoli i movimenti in una situazione di grande pericolo e soprattutto una situazione che necessitava di velocità nelle operazioni. La nostra necessità che in qualche maniera evidenziamo per quanto riguarda questi tipi di attività è sicuramente una dotazione più idonea a poter svolgere questo tipo di servizio. Un abbigliamento sicuramente più leggero, scarponcini, antiscivolo, in maniera tale che il soccorso deve essere agile in queste circostanze. Non si possono vedere quelle immagini in cui c'erano colleghi sicuramente ben dotati per il tipo di professionalità che avevano sviluppato. Ma altri colleghi che ahimè si muovevano goffamente ed erano in equilibrio precario, proprio per attrezzature totalmente differenti, che sono idonee al soccorso tecnico urgente in località diverse da quelle, quindi in ambito cittadino, urbano, extraurbano, però non in quel tipo di attività. Interventi straordinari nella durata e nella difficoltà delle operazioni personali, provato dalla fatica e tante le immagini degli uomini che riposano, appoggiati a sedio o seduti a terra, per poi ripartire in direzione dell'hotel Rigopiano per continuare le ricerche. Le ore e le risorse umane che vengono impegnate sono tante. Si parla di minimo 24 ore per arrivare in alcuni casi a 34-35 ore consecutive di servizio. La mancanza di dotazioni adeguate può aver reso più difficili anche le operazioni, anche la fatica? Sicuramente lo stress psicofisico incide quando ci sono situazioni già di per sé stressanti per tipologia di lavoro, ma anche per le difficoltà che si incontrano nel lavoro. L'emergenza in Abruzzo dura dal 2009, ora è necessaria una legge speciale che non parli solo di emergenze, ma di prospettive e di rilancio di questa terra. L'emergenza comunque non è finita, ci saranno delle conseguenze per ciò che è successo in questi giorni, come probabili alluvioni. Non facciamoci trovare impreparati, lo ha detto il leader di IDEA, Gaetano Quagliariello, intervenendo all'Aula di Palazzo Madama dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Gentiloni sul terremoto e sul maltempo. È il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua ad aver recuperato le mappe cartografiche che hanno mostrato la presenza di detriti sull'area dell'hotel Rigopiano. Nel frattempo emergono nuovi dettagli sulla pericolosità dell'area investita dalla Slavina il 18 gennaio. Ascoltiamo. Prosegue la ricerca di evidenze sulla pericolosità dell'area dove era stato costruito l'hotel Rigopiano. Due le questioni sotto la lente. Da un lato l'inchiesta finita con l'assoluzione di tutti gli imputati, per corruzione circa la cessione di una porzione di terreno in cui si era sviluppato l'ampliamento del resort e dall'altro le carte, datate 1991, che mostrano il passaggio di una valanga proprio su quel canalone. Il forum dei movimenti abruzzesi dell'acqua aggiunge dettagli a quelli che sono i nuovi sviluppi sulla questione. Possiamo dire che in un parco nazionale dei terreni ad uso civico sono stati abusivamente occupati per una porzione del sedime ad uso dell'albergo nel maggio 2008, dice la sentenza di assoluzione. Quello che noi abbiamo trovato però, e che stiamo ulteriormente approfondendo in queste ore, è una mappa del 1991 ufficiale della regione Abruzzo. Fa vedere che alla fine di quel canalone ci sono degli accumuli di sedimento, su cui è stato costruito i detriti e su cui è stato costruito il rigopiano, l'hotel. Bastava alzare lo sguardo, è un esperto, guardava il canalone, uno fa 2 più 2 e dice arriveranno dal canalone, non è che vengono dal cielo. Ora c'è un professor universitario che dice che già nel 1936 è scesa una grande valanga lì, quindi era un'area anche per conformazione che doveva preoccupare. Sotto la lente è anche il lavoro portato avanti dalla regione Abruzzo, sul caso rischio valanga, il piano di sicurezza connesso, la ciclicità degli eventi e la possibilità o meno di considerare quell'area non a rischio. La regione Abruzzo l'unica cosa che ha fatto è il catastro delle valanghe, però purtroppo abbiamo i dati degli ultimi 40 anni praticamente o poco più. Le valanghe, questi fenomeni geologici, geomorfologici, avvengono con frequenze anche più lunghe, addirittura di una generazione umana, quindi magari non ce lo ricordiamo, nel 1920 non c'era nessuno a Rigopiano a registrare se è scesa la valanga lì e quindi noi ci dobbiamo basare sia su quello che vediamo, ma soprattutto i geologi ci danno quegli elementi di cui dicevo prima, quei detriti e anche altri elementi che loro sanno leggere e diranno qui noi non sappiamo se è scesa cent'anni fa, però sappiamo che scendono perché ci sono questi elementi caratteristici. Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni riferendo in Senato sulla situazione di emergenza nel centro Italia ha detto abbiamo lavorato per la verifica della tenuta delle 40 dighe nelle zone interessate dal sisma, dighe che vengono verificate di prassi ogni volta che si verifica una scossa di magnitudo superiore a 4 e che quindi sono state ripetutamente verificate negli ultimi mesi. Il Ministro del Rio ha asseverato lo Stato intorno al bacino di Campotosto per prevenire i rischi ed evitare anche il diffondersi di voci incontrollate su rischi esagerati. E gli abruzzesi rimasti senza fornitura elettrica saranno risarciti da Enel diverse le modalità di indennizzo e risarcimento a seconda dei danni subiti a spiegare come procedere. Per ottenerlo è l'Associazione Codici che nel frattempo prepara anche una clacsection. Tempo di risarcimenti per gli abruzzesi rimasti isolati senza corrente, riscaldamento, ricezione telefonica e tutto quanto riguardi l'interruzione della fornitura. L'Associazione Codici mette in chiaro i tre tipi di interventi che potranno portare avanti i cittadini. La prima azione che noi intendiamo fare è quella di agevolare il cittadino affinché ottenga nel più breve tempo possibile questo risarcimento automatico. La seconda azione è quella rivolta ai singoli cittadini con particolare riferimento ai piccoli imprenditori che hanno subito ulteriori danni nelle loro aziende e qui occorre un'azione singola e quindi pertanto mettiamo a disposizione il nostro ufficio legale attraverso i nostri legali potranno rivolgersi tutti i cittadini e gli imprenditori per un'azione risarcitoria davanti all'autorità, dinanzi all'autorità giudiziaria. E la terza azione che intendiamo fare è una clacsection, anche se devo dire con molta onestà che la legge sulle clacsection in Italia purtroppo presenta molte lacune e quindi non è certo che si otterrà un risarcimento attraverso la clacsection. Da un lato i rimborsi automatici che arriveranno direttamente in bolletta, dall'altro invece le richieste per danni subiti alle attività professionali e infine la questione dei danni generali per mancata manutenzione, come nel caso abruzzese, una bocciatura su tutta la gestione del territorio e dell'emergenza. I cittadini hanno bisogno agli indennizi, al ristoro dei danni, al risarcimento degli danni subiti e che si facciano manutenzioni e investimenti sulle reti, su tutte le reti, principalmente quelle elettriche che hanno provocato i danni maggiori, quella del gas, le varie acquedotti, telefonia perché ci sono stati distacchi anche di centinaia e centinaia di utenze telefoniche. La regione Abruzzo si doveva preoccupare di verificare se ad alcuni enti mancavano dei mezzi e magari metterci più soldi, la regione è un ente finanziatore. Pensiamo a risarcire i cittadini, a indennizzare i cittadini che hanno pagato e a fare interventi di manutenzione e investimenti sulla rete, questo deve pretendere la politica, le associazioni consumatori codici si mette a disposizione di tutti i cittadini. Sui prolungati di servizi di energia elettrica registrati anche a Lanciano durante l'emergenza maltempo il sindaco della città Mario Pupillo ha dato mandato all'ufficio legale del comune di attivare tutte le procedure necessarie alla presentazione di un esposto alla procura della Repubblica locale. L'ufficio tecnico raccoglierà in un fascicolo tutti i servizi registrati e segnalati per le opportune valutazioni in ordine all'esposto che verrà presentato poi formalmente nei prossimi giorni all'avvocatura comunale. Il lance di Teramo ha convocato una conferenza stampa per rassicurare i teramani sulla solidità del patrimonio edilizio della città dopo gli ultimi terremoti. Il presidente Raffaele Falone svela i dati di un'indagine condotta su 70.000 edifici privati e pubblici del capoluogo Prutino. Solo l'8% ha subito danni dal sisma e solo il 4% è stato ritenuto inagibile. Teramo dunque è sicura e per l'Ance è inutile fuggire sulla costa. Tania Bonici Castelli. C'è eccesso di allarmismo per il sisma tra la popolazione di Teramo. Eccessivo ed ingiustificato secondo il presidente del Lance Raffaele Falone che svela dati tranquillizzanti dopo le ultime verifiche sul patrimonio edilizio della città. Solo il 4% degli immobili privati e pubblici risulta essere oggi danneggiato in maniera grave dagli ultimi terremoti. Nello specifico su 70.000 edifici l'8% risulta avere avuto danni ma solo la metà è risultata inagibile. La paura delle famiglie che si trasferiscono sulla costa è dunque una reazione emotiva da saper gestire meglio. Teramo è sicura secondo lei? Teramo è sicura perché gli edifici a Teramo sono adeguati a sostenere dei sismi importanti anche perché comunque Teramo riceve le scosse sempre in maniera non diretta. Quindi è inutile andare magari a vivere sulla costa per un certo periodo? Ma è inutile perché se uno ci vuole andare perché magari ha piacere ma se magari uno va a vivere per stare scomodi è assurdo insomma. Lei ha detto anche che è importante saper gestire questi momenti di difficoltà. Sì, questi momenti di difficoltà vanno gestiti e soprattutto bisogna essere efficaci. Ci sono dati per noi veramente allarmanti sulla ricostruzione. Ad esempio dal 2009, il terremoto del 2009, solo il 20% delle abitazioni sono state riparate. Questa cosa non è accettabile. Il presidente del lancio di Teramo, Falone, auspica inoltre l'attivazione di uno sportello istituzionale dove cittadini ma anche tecnici possano avere informazioni utili su scadenze e procedure per il rimborso post-sisma. Intanto, dopo dieci giorni di grigio, neve e gelo, oggi a Teramo è tornato a splendere il sole. Le piazze si rianimano un po'. La città avrebbe bisogno di tornare alla normalità e sembra chiamare chi è fuggito. Adesso più che mai c'è bisogno di stare insieme per non far morire la bella e antica Interamnia. I cittadini giuliesi potranno raccogliere la legna depositata in spiaggia a seguito delle forti precipitazioni dei giorni scorsi. Una possibilità riconosciuta da un'ordinanza dirigenziale dello scorso anno. Tuttora vigente il servizio. C'è una normativa vigente che consente di trattare le necromasse nella concessione perché fino a quando non verrà portata via non è rifiuto. Quindi potrà essere accumulato, anzi ho invitato i concessionari a farlo per evitare che altre mareggiate possano nascondere dietro la sabbia questo materiale. e per quanto riguarda i tratti di nostra competenza faremo lo stesso. Verrà tutto ammucchiato. Dobbiamo evitare di far ostruire i canali a mare e una volta che il tempo migliorerà nei prossimi giorni così come è previsto e si asciugherà tutto questo materiale, verrà suddiviso e verrà portato a recupero. L'arcivescovo di L'Aquila, Monsignor Petrocchi, ha incontrato i giornalisti aquilani invitandoli a continuare a svolgere il loro ruolo di mediatori di informazione per la gente e tra la gente. Ascoltiamolo. I giornalisti continuino a stare tra la gente. È essenziale l'incontro e non in un incontro invece che spesso è generato dall'uso smodato delle nuove tecnologie, importanti ma se usate con intelligenza. Lo ha detto l'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi, nel consueto incontro con i giornalisti in occasione della festa del loro patrono, San Francesco di Sales. Capire le opportunità che queste nuove tecnologie offrono, sapendo però capire quali sono i rischi. Quindi vanno valorizzate le capacità di creare legami più intensi, più forti, più rapidi. Però possibilmente vanno neutralizzate le patologie di una comunicazione scomposta, scorretta e non capace di far crescere la comunità. Io penso che si debba affinare il senso critico sia delle persone sia di quanti, come giornalisti, hanno il compito di tutelare la buona comunicazione. Monsignor Petrocchi ha elogiato il lavoro svolto all'Aquila dalla stampa, punto di riferimento preciso e puntuale, ha detto, sia durante terremoto che nella delicata fase di oggi della ricostruzione. Io sono molto grato ai giornalisti perché rappresentano una rete fondamentale che consente alle persone di non sentirsi sole. Perché quando c'è un evento drammatico, come quello che ha vissuto l'Aquila, e come purtroppo gli eventi ultimi sembrano riattivare, il rischio è che la persona si chiuda in se stessa. Perché la sofferenza si fa così grande da non poter essere detta per intero. Voi consentite di creare delle linee di comunicazione che consentono alle persone di sentirsi dentro un insieme che se da una parte fa l'esperienza di una sofferenza allargata, dall'altra però si pone come soggettività capace di vincere le avversità e di aprire un futuro bello. La Guardia di Finanza di L'Aquila ha eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie e di beni immobili per un valore di circa 420 mila euro nei confronti di una persona responsabile di aver indebitamente percepito un contributo per la ristrutturazione e riparazione della propria unità abitativa danneggiata dal sisma del 2009. L'indagato aveva richiesto ed ottenuto il contributo per conto della madre, in seguito deceduta attraverso false autocertificazioni sostanziate, sinerattestazione che l'immobile fosse adibito ad abitazione principale. Le indagini condotte dai finanzieri hanno rivelato invece che all'epoca del terremoto la donna dimorava abitualmente nell'abitazione del figlio che aveva la residenza anagrafica presso altro indirizzo, anch'esso diverso da quello dell'immobile ricostruito con i contributi pubblici. Passiamo alla politica. La segreteria regionale abruzzese di Rivoluzione Cristiana ha chiesto di impegnare il tavolo nazionale del centrodestra sulla proposta di Guido Bertolaso, quale candidato sindaco dell'Aquila dell'eminente turno amministrativo. Giorgio Alessandri. Buttada elettorale, provocazioni o forse qualcosa di più concreto. Se lo chiedono quanti hanno appreso nelle ultime ore della proposta circolata in vista delle prossime elezioni amministrative. Un'idea destinata a far discutere ed animare il dibattito cittadino, peraltro attualmente concentrato su vicende di cronaca. La segreteria regionale abruzzese di Rivoluzione Cristiana ha chiesto al segretario politico Gianfranco Rotondi di impegnare il tavolo nazionale del centrodestra sulla proposta di Guido Bertolaso, quale candidato sindaco dell'Aquila, nell'imminente turno amministrativo. Lo rende noto infatti l'ufficio stampa di Rivoluzione Cristiana. Bertolaso, capo della protezione civile all'epoca del sisma del 2009, ha suscitato e continua a provocare città sentimenti contrastanti, non solo per le vicende giudiziarie legate al terremoto in cui è stato coinvolto. Per alcuni fu un salvatore della patria, per altri artefici della sperimentazione di un modello di intervento in occasione del sisma che peraltro fu molto contestato. Fatto sta che comunque l'opera di Bertolaso, mancato candidato sindaco di Roma nei mesi scorsi, non è stata dimenticata. L'impegno di Bertolaso per l'Aquila sarebbe la migliore risposta all'umiliazione della città da parte del centrosinistro locale e nazionale, ha detto la segretaria regionale di Rivoluzione Cristiana, Anna Maria Bonanni, a commento della proposta che vedremo come sarà accolta in primis dall'ex capo della protezione civile ed in secondo luogo dai partiti e candidati del centrodestra che stanno scaldando i motori ormai da diverso tempo. Passiamo alla pagina sportiva, ancora movimenti in casa Pescara. Ieri è stato depositato il contratto di Tari che potrebbe essere a disposizione per il match di San Siro contro l'Inter sabato prossimo. in partenza Cristiante, mentre nel milino del Delfino finisce il centravanti uruguaiano della Ternana Avenatti. Il servizio di Andrea Costantini. Una settimana alla conclusione del mercato. Tre giorni al match di San Siro contro la lanciatissima Inter. Il Pescara cerca di trovare un filo di speranza su questi due versanti per dare un senso ai prossimi mesi di campionato affinché non si tramutino in un autentico calvario. Ieri è stato depositato il contratto di Salle Montari. La speranza di Massimo Oddo è che il giocatore sia fisicamente in grado di dare il contributo già contro una delle squadre delle quali ha indossato la maglia, l'Inter appunto. Certamente non sarà il 100% e per quello il livello ci sarà da attendere. In via di definizione il presidio di Brian Cristante all'Atalanta. Il giocatore Scuola Milan ha sostanzialmente deluso e cercherà altrove di far decollare la sua carriera. Così Cristante tornerà alla sua squadra di appartenenza il Benfica che a sua volta lo girerà alla compagine aerobica di Giampiero Gasperini. Sarà il dopo Gagliardini almeno per il prossimo anno e mezzo visto che il prestito sarà di 18 mesi. Intanto nelle ultime ore prende forma l'interesse del Pescara per l'attaccante della Ternana Felipe Avenatti. Esploso quest'anno il centravanti uruguayano è in scadenza a giugno. Già con un piccolo indennizzo Avenatti potrebbe diventare da subito biancazzurro e rappresenterebbe anche un cardine per un'eventuale Serie B nella prossima stagione oltre che una valida alternativa per questo campionato. Per la gara di sabato con l'Inter invece da valutare il recupero di Ben Ali colpito da sindrome influenzale. Fiducia anche per la disponibilità di Zampano e Giliardino che a San Siro dovrebbero esserci. Per Bovo, Campagnaro, Vittorini e Ghiomber nulla da fare così come per Caprari squalificato. Gara da ex per Cristiano Biraghi il difensore arrivato proprio dall'Inter nell'operazione Caprari e che nelle ultime ore sembra essere finito nel mirino della Sampdoria. Al massimo se ne riparerà per le ultime due giornate di mercato. Nell'Inter sicuro assente lo squalificato Ansaldi al suo posto Santon il tecnico Pioli potrebbe tenere a riposo i diffidati Miranda e Condobbia per preservarli in vista del big match dello Juventus Stadium del 5 febbraio. A loro posto Brozovic in mediana e coppia Medel-Murillo in difesa. E tra i provvedimenti relativi alla ventesima giornata di Serie D la terza del girone di ritorno il giudice sportivo ha segnato la vittoria per 3-0 all'Avezzano contro il Foligno. Gara annullata per interdittiva della società la società Umbra da parte della prefettura di Perugia. E stanno per iniziare i due recuperi di Serie D Campobasso Pineto Fernana San Nicolò vediamo la distinta di Fernana San Nicolò quindi tra nella formazione del San Nicolò Ciotti Pretara Mozzoni De Santis Milillo Petronio Di Lullo Stivaletta Moretti Bisegna e Fulvi Ed è tutto per questa prima edizione della TG6 l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 19 grazie per l'attenzione e buon proseguimento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.